musica fece tardo come va? ma che faccio ancora qua? ah siamo tutti bloccati qua ci sono le guardie ah perchè? come nascevo? come va? io niente la lavannara stanno portando la lavannara? ma perchè che fece? ah se ne aveva bene bene con l'amico suo e cominciava a gridare non ce n'è pandemia non ce n'è presepe questa lavannara con una nave che fa? ma e come va? come va? no se la volevano portare la volevano arrestare poi ad un certo punto arrivò l'avvocato di Barabba e ha aggiustato tutte le cose Barabba? ma qui? che non è? un piccettino qua della zona un delinquente solo che si fa sempre franco ah a chi va la lavannara? come va? a chi va la lavannara? a chi va la gente della lavannara? a chi va la gente? un arraggiato arraggiata non s'ha capito buono che cosa è ma comunque capace che questo ci fa fare all'allavannara le serate quest'estate all'arena ma vedi che cosa? comba perchè non ci parlate pure voi? magari la gente vi fa fare qualche serata qualche spettacolo ah mia che c'entro io scusa? vi metto nell'arena con tutti i leoni comba faccite qualche spettacolo ma che volete la vita mia? senta! psss agente psss chiamatevi ai due bravo psss voleva fare l'attore comba psss lo chiamano Marco Pizzellonio ha si un desgraciato se me ha capito eh? comienza un... 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 Grazie a tutti.